Musica Dagli studi dell'Agenzia Promozione Spettacoli di Montesilvano per una puntata davvero particolare del nostro programma perché ci troviamo in compagnia di una professionista della sanità il dottor Carmine Salvatore con cui tra poco brinderemo a questo nostro incontro con dei gustosi cocktail offerti e preparati dal Bar Rondò di Via Vestina a Montesilvano quindi brindiamoci su a questo nostro incontro la prima volta al nostro programma con il dottor Carmine Salvatore siamo a distanza quindi a distanza di sicurezza Cin, è un piacere Un personaggio tutto da scoprire un professionista della sanità con la passione innata per la musica noi dell'Agenzia Promozione Spettacoli abbiamo avuto modo di conoscerlo a più riprese in occasione dei vari appuntamenti con il Festival della Melodia questa manifestazione canora itinerante a livello nazionale che recentemente ha avuto anche il riconoscimento da SIAE Italia intanto andiamo con ordine noi possiamo anche continuare ad assaggiare questo ben di Dio che ci hanno preparato gli amici del Bar Rondò di Via Vestina a Montesilvano però si diceva un professionista della sanità una vita dedicata alla cura di chi ha bisogno ecco radiologo di professione tanti anni vissuti all'interno dell'ospedale civile Spirito Santo di Pescara oggi in tutto relax continua questa sua passione però ha alimentato anche un'altra passione quella per la musica andando con ordine ecco facciamo un resoconto delle soddisfazioni che si è tolto il dottor Carmine Salvatore nel capitolo della sanità dunque della sanità ho iniziato in lo tempo e mi sono formato nella scuola e nell'ospedale regionale di Colleferro dove il mio primario mi prestava i suoi libri per rendermi edotto di tutte le possibilità chi era il primario dottore? il mio primario era e è andato in pensione tutt'ora il dottor Tarcissio Torti una persona eccellente che io ricordo le immagini una sintesi tra Mitterrand con la sua autorità e Martufello con la sua ironia lui era Ciociaro come Martufello quindi mi lascio immaginare quante conviviali ci sono state la prima conviviale fu quando arrivai a Correferro era il mese di agosto tra i primi di agosto e misero in una tavolata un lenzuolo bianco e dove all'ora di pranzo dovemmo desinare tutti quanti insieme quindi fu un'accoglienza proprio di gruppo anche perché la radiologia ma un po' tutta la medicina penso sia una situazione di gruppo un'aggregazione e una sintesi vincente però per fare più di un semplice passo indietro come nasce la passione per questo settore particolare la radiologia in Carmine e Salvatore? allora guardi io avevo alcune passioni in medicina ho toccato tutte le specialità nel mio escursus tant'è che mi sono laureato col massimo dei voti e con 45-46 esami quindi ho toccato tutte le specializzazioni l'internistica in particolare e non ho fatto non feci la variazione del piano di studi quindi ho fatto tutti gli esami che erano prescritti e per quello mi hanno dato in radiologia soprattutto ebbe addirittura col professor Cola Grande il Trentellode la menzione di merito perché lui aprì la porta e disse così dovete studiare ricordo che mi faceva vedere i radiogrammi io gli indovinavo tutto e sapevo descrivere tutto e lui si meravigliava ma già le ha viste no non le ho viste professore e incalzava con domande teoriche dopodiché si è dovuto arrendere quindi è stata una delle specializzazioni che mi piacevano di più e sono riuscito a fare probabilmente la cosa che mi piace di più è per quello che ho dedicato tante tante ore all'attività di lavoro e ugualmente non mi stanco ormai è diventato un'abitudine avere queste soddisfazioni Cosa deve avere un buon radiologo per fare il salto di qualità rispetto agli altri? Allora io penso che bisogna avere scienza e coscienza scienza e coscienza perché innanzitutto è affidata a una preparazione molto larga perché la radiologia non è solo un elemento oggettivo di indagine ma deve eseguire un programma una linea clinica in particolare in metodica nella metodica che ho coltivato di più l'ecografia l'ecografia deve essere clinica cioè non deve essere una metodica che studia rispetto all'indicazione del medico ad esempio di famiglia o di un altro specialista bisogna che ci sia il tempo e quindi non si debba seguire una logica di profitto bisogna dare il tempo necessario affinché possono scaturire le linee guida che sono le linee della clinica che il paziente manifesta spontaneamente o dopo un'interrogazione breve su quello la metodica cavalca una direzione e riesce a recuperare le immagini perché la metodica è maieutica deve estrarre le immagini dall'organismo e quindi per questo occorre che ci sia una volontà clinica una direzione clinica un esempio se vuole che le faccia un esempio se è uno dei tanti c'era una donna in ospedale ricoverata in chirurgia che lamentava dolore a linguina e gli ho chiesto ma come mai perché per come ho fatto una breve visita sospetta appendicopatia ricoverata in chirurgia non aveva una appendicopatia ma aveva un versamento all'anca quindi gli organi hanno una condizione di vicinanza e quindi bisogna interrogare i pazienti e rendersi partecipi dei loro problemi e poi andare verso una direzione clinica e quindi anche modificare un po' l'atteggiamento diagnostico quindi pensarci rifletterci su pensarci rifletterci esattamente proprio così lei oggi dottore Salvatore è in pensione però in tutta sincerità seduti comodamente qui all'interno degli studi dell'agenzia promozione spettacoli di Montesilvano ritiene di aver avuto più gioie o più dolori nel corso dei tanti anni di professione dalla radiologia direi che se pensassi e tornassi indietro sicuramente lo rifarei anche se i sacrifici sono stati tanti soprattutto nelle notti deve sapere che prima che venisse in auge un decreto della comunità europea noi eravamo costretti ipso facto a fare molte molte ore di lavoro quindi diciamo che facevamo 8-9 ore poi avevamo un piccolo intervallo poi tornavamo la notte in cui era guardia attiva turni massacranti quindi sicuramente però ripagati da tante soddisfazioni sul campo per chi è piacere di percorrere questa metodica diagnostica sicuramente le soddisfazioni non mancano e vedo che ci sono tanti tanti giovani che hanno ancora intrapreso questa attività se si vanno diversificando perché poi questa metodica radiologica ha preso altre forme altre direzioni un lavoro svolto prevalentemente dietro le quinte ma di fondamentale importanza per portare alla luce malattie importanti patologie importanti delicate no? sì sicuramente è fondamentale l'apporto diagnostico radiologico la diagnostica per immagini in senso lato quindi parliamo di risonanza magnetica di ecografia di tac ma anche la semplice radiologia è fondamentale ed è preliminare allo svolgimento e quindi è collegato direttamente al pronto soccorso noi siamo collegati al pronto soccorso dal momento che soprattutto il pronto soccorso si attiva nel darci l'input a fare delle indagini che siano esplicative su un presupposto patologico dal giorno in cui dal primo giorno in cui è iniziato a lavorare come radiologo ad oggi come è cambiato il settore come è cambiata la radiologia sotto un punto di vista strettamente tecnico si è cambiata veramente poderosamente nel senso che si è andata ad applicare l'automazione ad esempio quindi una diagnostica che possa essere guidata dalla macchina e quindi robotizzata in senso lato quindi ad esempio la vecchia tac addirittura viene utilizzata nel recuperare con metodica automatica e robotizzata piccoli tumori polmonari in poche parole c'è una sintesi la macchina ha acquisito tante immagini memorizzato tante immagini quindi si è creata un'intelligenza artificiale per cui sottoposto il paziente a un'immagine radiologica ecco che la macchina si attiva nel puntualizzare e dare all'operatore al radiologo che sta seguendo l'esame dire guarda qui poi c'è il radiologo che chiaramente può distinguere e valorizzare o meno questo aspetto quindi ma anche in mammografia c'è il metodo CAD di automatismo delle microcalcificazioni ci sono questi tentativi di automizzazione della metodica una metodica che poi si è espressa anche da un punto di vista interventistico quindi ha sostituito molto spesso in maniera incruenta senza fare un intervento chirurgico e senza utilizzare spesso e volentieri l'anestesia utilizzare queste metodiche per arrivare come la pallottola magica di Arlich arriva proprio in maniera precisa con una metodica di precisione all'obiettivo per risolvere problemi quindi radicare patologie aggiustare le cose al meglio e questo è qualcosa veramente di eccellente che l'ospedale civile di Pescara sotto la guida del primario dottor Di Egidio ha valorizzato tantissimo ultimamente con la collaborazione di alcuni colleghi molto molto bravi adesso lo può dire senza mezzi termini che radiologia si fa in Abruzzo che radiologia si fa in Italia anche e soprattutto in riferimento agli altri paesi della comunità europea Paesi della comunità europea mi dicono io non sono stato mai a lavorare all'estero però ho degli amici che ci sono stati sono forse più organizzati da un punto di vista statistico nel quantizzare le esigenze vale a dire se arriva il pronto soccorso loro sanno che esiste statisticamente la necessità di eseguire tot numero di tacche al ginocchio tot numero di tacche cervicale 10 risonanza magnetica o meno provvedono affinché ci siano le macchine e gli esperti sul campo che possono assicurare questo servizio quindi da un punto di vista organizzativo da un punto di vista invece diciamo di competenze senza altro non siamo non siamo dietro a nessuno dietro a nessuno ricordo un convegno che si svolge a San Marino in cui io andai sulle urgenze c'era una professoressa del Fedico secondo di Napoli che dette veramente battaglia con personaggi di Boston di New York americani i quali erano intervenuti su varie metodiche e lei veramente primeggiava la dottoressa Romano veramente mi è rimasto impresso questo perché è una donna nel campo della radiologia ne sono poche ma lei è veramente fu veramente straordinaria nel delineare tutte le possibilità della metodica a secondo gli argomenti trattati lei è una professionista della sanità quindi chi meglio di lei può dirci a che punto ci troviamo siamo nella quarta ondata stiamo vivendo la quarta ondata di una pandemia che non accenna a terminare la gente è preoccupata ci sono ancora migliaia e migliaia di contagi tutti i giorni ma che cosa sta succedendo la gente corre a vaccinarsi c'è tanta gente che ha già fatto il terzo vaccino però sono sempre molti tanti coloro che sono preoccupati per l'attuale situazione il pensiero del dottor Carmine Salvatore quando ne usciremo fuori ecco sicuramente la vaccinazione sarà vincente perché quello che ci dobbiamo preoccupare è sulle varianti abbiamo avuto questa variante che è più aggressiva in un senso che riesce aggressiva da un punto di vista dell'infezione la capacità di infettare quindi statisticamente più numero di persone e quindi logicamente rende ragione anche nonostante la minore aggressività ma un numero maggiore di persone infettate nello stesso momento anche della resa dei conti dei deceduti purtroppo è così con le vaccinazioni perché il virus modifica e si modifica diciamo all'interno dell'organismo quando non ci sarà più questo passaggio e questa virulenza perché saremo tutti in gran parte vaccinati ma dico non solo in Italia nel resto d'Europa anche nel resto del mondo perché è una pandemia come dice la parola stessa bisogna renderci conto che anche le altre nazioni anche quelle più povere devono ottenere i fondi e le risorse per vaccinare quanto più possibile di popolazione ma quanto dovremo aspettare per tornare alla normalità se lo chiedono in tanti dottore nessuno lo sa se ci sarà la possibilità breve di una svolta certamente col caldo e con la bella stagione come è stato l'anno scorso ci sarà sicuramente una riduzione ma noi dobbiamo confidare sempre con le nostre armi i vaccini il distanziamento e le mascherine ovviamente assaggi pure continua ad assaggiare pure questo cocktail che ci hanno preparato gli amici del bar Rondon un saluto all'amico Gianluca un grande professionista dell'arte del bere il bar Rondon in via Vestina a Monte Silvano vi aspetta tutti i giorni dalla mattina alla sera perché io con il dottore Carmine Salvatore gradito ospite del nostro programma vorrei cambiare pagina e dopo l'angolo dedicato alla sanità io vorrei parlare di musica perché ogni qualvolta la invitiamo al festival della melodia è davvero un piacere perché lei impersonifica l'amore verso la musica lo fa con tanta passione con tanta dedizione ma quando è nato questo amore per la musica? ma l'amore è nato da piccolini sulle braccia sulle gambe di mio papà che suonava la fisarmonica il violino quindi c'è stato l'imprinting dopodiché c'è stato un atteggiamento costruttivo con lezioni di solfeggio quindi due o tre anni di solfeggio con il professor Cesare Serafini dopodiché c'è stata la necessità di confrontarsi con i complessi e i complessini ed io che ero più giovane le immagini ho partecipato all'inaugurazione dell'hotel Mediterraneo con Ornella Vanoni siamo stati complessi di spalla di personaggi come Nada quando arrivò in piazza a Chietiscalo parliamo del 72 del 73 quindi ero veramente giovanissimo ma erano anche altri tempi erano tempi eroici tempi in cui però si spendeva tutto sulle amplificazioni noi avevamo un'amplificazione straordinaria spendevamo tutto su amplificatori chitarre Gibson o qualsiasi altra cosa migliore anche perché erano sostenuti dalle famiglie quindi non avevamo una necessità di guadagnare per suonare e andare la vera musica senza altro era la vera musica siamo partiti così sono partiti così anche col maestro Adriano Cegamore il quale è stato il mio bassista e poi è diventato altro grande amico del festival della melodia lo ricordiamo con affetto è diventato un compositore anche bravo diciamo pertanto la musica è stata sempre nel mio DNA diciamo e l'ho coltivata ultimamente poi è successo che c'è stato un viraggio da io che suonavo la chitarra il basso facevamo un po' di cosettine col complesso c'è stato questo viraggio verso la professione prima medica radiologica eccetera è tornato in auge questa necessità di esprimermi con Piero Mazzocchetti che è stato il mio maestro a cui devo tanto devo la mia voce perché sono andato a studiare da lui nella sua accademia che prima era qui a Montesilvano e si chiamava Eza poi è venuto anche qui a fianco a voi e perché è nato questo perché il suo brano Schiavo d'amore mi ha tanto emozionato di Maurizio Fabrizio Schiavo d'amore terzo classificato al festival di Sanremo edizione 2007 noi lo ricordiamo in ogni appuntamento del festival della melodia mi ha dato dentro una tale vibrazione che cantavo pure io allora Daniela mi ha detto ma perché non vai a scuola e quindi siamo andati alla ricerca della sua scuola e poi sono stato seguito da Nicolas Giusti il quale ha scoperto le mie note baritonali quindi mi ha iniziato con Baccaci e pian piano sono andato avanti cambiando rotta anche cercandomi un baritono di professione che è stato Renato Calderale per alcuni anni adesso sono approvato approdato da Orietta Cipriani essenzialmente per fare un repertorio cioè mi sono reso conto che non bastano uno o due brani ma occorre un repertorio che voglio fare mio per avere la possibilità oggi e domani di rendere grazie agli altri niente di avvalenza economica nessuna belleità ma riesce a scaricare le tensioni riesce ad emozionarsi quando canta come si sente? bisogna aprire le porte alla musica una volta che entra non se ne nasce più è davvero un linguaggio universale è un linguaggio universale è una forma artistica così plastica eterogenea è un po' come la medicina si può esercitare in tutte le parti del mondo quindi è quello forse il binomio vincente è quello e in giuria al festival della melodia come ci si ritrova tra questi giovani cantanti provenienti un po' da ogni parte dell'Abruzzo ma anche fuori dai confini regionali che sognano inevitabilmente di arrivare sul palco del teatro Harrison tra qualche giorno inizierà questa importantissima Kermes a Sanremo quindi l'occasione giusta anche per dare qualche suggerimento dall'alto anche della sua maturità artistica dottor Salvatore sì io penso che ci voglia il talento però oltre il talento occorrono necessariamente la fortuna non esiste secondo me occorre il talento bisogna coltivare il talento e poi occorrono delle opportunità pertanto è lodevole veramente l'apporto che dai a questi giovani perché crei a loro un'opportunità che non avrebbero comunque quindi talento e opportunità fanno la loro fortuna una fortuna tra virgolette che non esiste esiste il talento e esiste l'opportunità e molti dovrebbero svolgere il ruolo che rappresenta nella società perché a mio giudizio è molto importante dà la possibilità a tanti giovani di esprimersi gratuitamente addirittura mazzocchetti Gio Di Tonno Gianluca Ginobble tanti cantanti tanti artisti che oggi vanno per la maggiore sono citi e anche l'ultima di Torrevecce di Latina Marcella Di Pasquale che ieri l'ho ascoltata alcuni anni fa bravissima ma ci sono tanti cantanti che hanno anche vinto il Castrocarro Terme quindi si sono affermati a più livelli e poi tante orchestre che girano l'Abruzzo in lungo e largo hanno al loro interno cantanti che sono cresciuti sui palchi del Festival della Melodia una rassegna che d'altra parte offre l'opportunità gratuita a tanti giovani di mettersi in evidenza ma voi in giuria che cosa vi dite durante queste manifestazioni? ma cerchiamo di non influenzarci sono dei mugugni di approvazione di qua e di là però io mi entusiasmo diciamo che le prime note sono quelle di dare quando valgono anche 10 poi mi accorgo che successivamente c'è qualcuno che vale 11 allora cerco di modificare un po' e di creare una buona armonia sui voti perché giustamente bisogna essere rigorosi certo alcune volte ho notato che ci sono dei personaggi pure che magari per brani che non sono all'altezza non sono adatti a loro si avventurano in un certo l'importanza della scelta del brano musicale certo è molto importante l'importanza della scelta è fondamentale ma secondo il dottor Carmine Salvatore bravi cantanti ci si nasce o ci si diventa è il dilemma di sempre se lo chiedono davvero in tanti io direi che come il bravo poeta si è poeti perché si ha ispirazione o si riesce a essere poeti eccelsi perché si può scrivere su tutto beh io direi la seconda cosa perché parlando appunto di alcuni riescono alcuni cantanti a fare solo determinate cose per il loro talento mentre invece il cantante è vero guardiamo Pavarotti spazio dalla lirica al moderno può fare tutto ci sono stati degli artisti su cui lei ha basato la sua formazione la sua passione chi l'ha ispirata dottor Salvatore? beh sono stato ispirato ultimamente da brani lirici diciamo io ho amato ultimamente quando ho avuto questa fortuna di rappresentarmi con la musica ho amato i bravi lirici il lotembre quando eravamo insieme avevamo voglia di rappresentarci con brani dei Beatles dei Deep Purple dei Santana quindi anni 70 c'è stata questa musica in auge poi un po' il rock si è ridimensionato è andato avanti la musica dei cantautori tra cui De Andrè penso che sia stato uno dei migliori ma con contaminazioni che ho notato questa è un po' una chicca una delle chicche che posso raccontare sono stato invitato dal dottor Miscia lì al al centro tostiano che c'è a Ortona e una chermesse ci fece ascoltare della musica popolare abruzzese ti garantisco Paolo che aveva delle contaminazioni molto in sintonia con De Andrè d'altronde le contaminazioni ci sono sempre state sono stato invitato ultimamente in una chermesse lirica con il Don Pasquale di Donizetti e beh dal Don Pasquale di Donizetti c'erano note che facevano sentire il Mozart che poi rappresentavano anche le zingarelle di Verdi quindi c'è questa questo trasferimento di queste contaminazioni che ci sono state in passato e ci saranno sempre l'ho chiesto anche nel corso della prima parte del nostro programma quando abbiamo parlato di radiologia con il dottor Carmine Salvatore lo chiedo anche in questo ambito mentre ci avviciniamo quasi in addirittura ad arrivo come è cambiata la musica da 30 anni a questa parte i talent sono davvero una risorsa per questo settore o magari è meglio credere in determinate procedure in determinate metodologie io penso penso fermamente come nella radiologia i maestri sono molto importanti i maestri sono molto importanti per cui bisogna avere dei buoni maestri per avere le basi per poter poi produrre per produrre anche cose nuove anche nella musica occorre fare questo io ebbi la possibilità di parlare con la Katia Ricciarelli e le dissi come da me alcuni primari vanno in pensione però non hanno lasciato radici lei ha una scuola e lei rimase un po' interdetta sì ce l'ho però non tutti vogliono studiare eccetera importante che ci siano buoni maestri che possono sviluppare secondo la loro pratica le loro competenze sviluppare e far uscire fuori i talenti quindi questi coach secondo me sono molto molto importanti essere però attaccati alle tecniche di base e quindi dare sempre meno spazio alla fantasia alla creatività è un bene o un male per la musica per i giovani di oggi beh oddio l'originale forse nasce nasce sicuramente da un'intuizione e l'intuizione sappiamo che è superiore a ogni intelligenza e ogni pratica l'intuizione è qualcosa di superiore però come per la radiologia per la medicina l'elettronica e i software stanno cambiando il volto anche dalla musica perché consentono una programmazione pentagrammata elettronica che riproduce le tendenze quindi il viaggio di un cantante verso nuove proposte ha delle radici che possono essere benissimo codificate con l'elettronica e riproposte in una chiave un po' diversa quindi se lì si è oltre che cantanti anche molto smanettoni come si chiama sul computer beh certo questa cosa è importante perché riesce abbiamo parlato abbiamo ricordato prima di Marcella Di Pasquale la cantante di Chieti o di Torrevecchia Teatina che dirla si voglia protagonista della finalissima di The Voice Senior ma a proposito proprio chiudiamo con una battuta sogna ancora il dottor Carmine Salvatore quanto darebbe per poter arrivare su un palco così prestigioso anche perché le qualità ce le ha tutte darei tutto potrei sospendere anche la mia attività momentanea per un periodo per poter partecipare sono sollecitato di qua e di là però sto andando a scuola soprattutto perché adesso con questo nuovo approccio formativo sicuramente ho trovato anche un'altra persona molto brava che si dedica a me con le intonazioni quindi ognuno ha un proprio registro quindi io baritonale a un registro che il professor Nicola Giusti diceva che essere non indifferenti quando il Verdi aveva composto molte cose per baritono però chiaramente bisogna centrare l'obiettivo sulla mia voce su quello che la mia voce può dare insomma musica forever grazie sicuramente grazie grazie al dottor Carmine Salvatore è stata davvero una chiacchierata piacevole e interessante la scoperta di un nuovo personaggio una professionista della sanità con la passione per la musica è stato un incontro che merita di essere approfondito magari ci daremo nuovamente appuntamento in questa sede per continuare a parlare di musica di sanità con un personaggio altamente professionale preparato per poter dare un contributo determinante alla causa grazie al dottore Carmine Salvatore ci rivedremo ai prossimi festival della melodia grazie anche a tutto lo staff del bar Rondò di Via Vestina a Montesilvano ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni ciao a tutti parlare con i tuoi amici sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione il tuo lavoro rispondere con sicurezza ai loro dubbi tutto questo è più vicino di quanto pensi perché i professionisti dell'udito maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene ritrovare il piacere di ascoltare è semplice e tu cosa aspetti? hai per caso la passione per i fornelli? iscriviti gratuitamente al campionato della cucina per casalinghe chiama ora il 337 91 71 11 o visita il sito campionatoitalianodellacucina.com ti divertirai cucinando grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.